Siamo con Susie Blady, turisti per caso, la vostra è una community molto importante, siete su Facebook, su web in generale, la trasmissione televisiva, insomma quindi avete molto seguito, come nasce questo successo? Per caso, per caso, per caso nasce vent'anni fa quando abbiamo incominciato a girare, io e Patrizio con una telecamerina, io volevo andare in India, Patrizio non voleva venire perché dice India, merda, mucche, malaria, no? C'è questi problemi. E quindi appunto gli ho detto, beh, prendi questa telecamerina e vieni con me e riprendi così ti sembra di essere davanti alla televisione. Poi più tardi abbiamo guardato in giro, abbiamo visto, c'è il web, ma? Boh, perché non facciamo un sito? Credo di averlo detto io, ma non sapevo neanche che cos'era più di tanto. Abbiamo cominciato a lavorare sul web. Abbiamo visto tre volte il premio Sole 24 Ore, abbiamo aumentato moltissimo la nostra presenza, è arrivato un editore, Master Edizioni, che ci ha aggiunto poi anche una rivista, ha aggiunto anche, diciamo, anche quello che è l'aspetto anche un po' più di promozione. Secondo me è questo che il web dovrebbe fare, no? Ma adesso probabilmente deve anche essere uno strumento che comunica sapendo cosa sta comunicando, no? Comunica per fare comunità, ma a livello, cioè con un livello, no? Non per fare una comunità che rimane virtuale, ma una comunità che diventa reale. Con Velisti per caso invece avete scoperto, insomma, navigato la costa toscana, l'isola Debbia in particolare? Sì, basta girare il mondo, ci sono delle cose meravigliose in Italia, bisogna girare l'Italia. E questo di Velisti per caso è stato un viaggio, appunto, sulla costa anche toscana, soprattutto toscana e laziale, alla ricerca dei popoli del mare, alla ricerca della navigazione degli etruschi, che avevano in realtà, avevano barche grandissime, erano veramente sul mare, erano più navigatori di quanto noi non crediamo. E quindi partendo dall'isola d'Elba, dalla spiaggia degli Argonauti, guarda caso, chiamata proprio così, i grandi navigatori del passato, fino a Populonia, Baratti-Populonia, dove ci sono mura megalitiche, proprio sotto all'acropoli etrusca, e poi appunto Cosa, e poi l'arcipelago toscano, e poi quel magnifico esempio di porto incredibile che è Orbetello, che ora non è più un porto, ma che nell'antichità è stato un porto veramente molto misterioso. Grazie a tutti.